Allora, torniamo su quella che è l'attualità. Parlavamo del G7 dedicato all'agricoltura appena concluso, sì, ma facevamo riferimento anche ad una importante iniziativa. Andiamo sul Corriere della Sera. Servizio civile in agricoltura. Si farà? C'è il bando per i progetti? Quanto si prende? Come funziona? All'interno di questo articolo, leggiamo il Ministro Lollobrigida, per la prima volta i giovani potranno servire la patria nei campi. Partiranno mille ragazzi tra i 18 e i 28 anni, prenderanno un rimborso di 507 euro al mese, progetti da presentare entro il 28 ottobre. Dunque, a partire dal 2 ottobre ed entro il 28 novembre, gli enti interessati a reclutare i ragazzi dovranno presentare i loro progetti. Ma per approfondire questo tema e parlare più in generale di quella che è la bella realtà del Servizio Civile Universale, abbiamo in collegamento Enrico Maria Borrelli, rappresentante della Fondazione Amesci e Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale. Ben trovato, Presidente. Buongiorno a voi. Una bella iniziativa, dicevamo, che come spesso accade è stata accompagnata anche da polemiche, ma vogliamo capirne di più circa questa possibilità che viene offerta ai giovani di, in un certo senso, valorizzare un ambito che è quello dell'agricoltura, che è sicuramente un po' dimenticato. Sì, effettivamente come tutte le iniziative, come tutte le novità, in un qualche modo sconta anche un po' di contraddizioni e un po' di opposizioni. In realtà il Servizio Civile è un istituto che in Italia oramai vanta oltre 50 anni, siamo a 52 anni di storia, un'esperienza che nasce con una leva obbligatoria militare, poi è diventata spontanea, volontaria, quindi oggi i ragazzi scelgono spontaneamente di poter partecipare ad iniziative e progetti, individuano anche l'ambito nel quale vogliono cimentarsi con questa esperienza ed è un anno, perché dura tendenzialmente un anno, ci sono anche progetti più brevi, ma quasi tutti i progetti in Italia hanno la durata di un anno, quindi un'esperienza molto formativa, molto impattante, sia sulla crescita dei giovani da un punto di vista personale, sono comunque giovani in età di formazione, dai 18 ai 28 anni, sia anche da un punto di vista della loro formazione e anche delle loro competenze. Quindi il servizio civile funziona in questo modo, è la più energica politica giovanile che lo Stato ha messo in campo, consente ai giovani di fare questo tipo di esperienze e proprio perché abbiamo tanti anni di storia e di esperienza, molte sono anche le novità che si apparecchiano all'orizzonte, abbiamo sperimentato negli ultimi anni il servizio civile in ambito digitale, attraverso l'educazione e la sensibilizzazione digitale ai cittadini, abbiamo sperimentato un servizio civile ambientale, quindi con un focus particolare sulla sostenibilità, tutti sappiamo quanto sia caro questo tema, in particolare alle nuove generazioni, quindi il servizio civile tende sempre ad ammodernarsi nei linguaggi, negli interessi insieme ai giovani, proprio per offrirgli esperienze che siano stimolanti. L'ambito dell'agricoltura, quindi l'ultimo protocollo di intesa nato tra il Ministero delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, diretto dal Ministro Abbodi e il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Militare Alimentare, che è Francesco Lollobrigida. Questo nuovo protocollo di intesa in realtà ha molto di sociale al suo interno, perché sappiamo che il settore primario, l'agricoltura e una ricchezza sono una ricchezza fondamentale del nostro paese, ma noi non andiamo chiaramente ad operare nell'ambito della produzione, ben lungi da noi, piuttosto andiamo su tutto il piano educativo, quindi molte sono le iniziative anche di carattere terapeutico, di educazione dei bambini, ci sono gli agrinidi, c'è la tutela della biodiversità e dell'ambiente, c'è la promozione degli stile alimentari legati chiaramente a tutto il mondo del food, molte sono le direttrici nelle quali i ragazzi potranno sperimentarsi attraverso i progetti ed è inutile dirci che anche il piano delle competenze che i giovani possono acquisire, ovviamente quelli interessati a fare questo percorso nella loro vita, ecco perché i giovani scelgono spontaneamente il loro tipo di servizio civile e sicuramente è uno degli ambiti nei quali il nostro paese fa bene ad investire. Dicevamo della possibilità di presentare i progetti a partire da domani 2 ottobre fino al 28 novembre, faceva riferimento anche agli ambiti come la promozione e la tutela dei prodotti agricoli e alimentari del Made in Italy, fino alla conoscenza e promozione dei corretti stili di vita alimentari, e anche prevenire e contrastare i disturbi legati all'alimentazione o per ridurre lo spreco alimentare, valorizzare l'economia circolare affiancate anche da servizi di tipo ricreativo. Una bella opportunità questa, ecco ma più in generale, parlando del servizio civile universale, ecco un'altra notizia che troviamo sull'ANSA che è stata abbattuta nei giorni scorsi riguarda i progetti più in generale di Amesci, 2742 volontari in campo, sono partiti 131 progetti di servizio civile universale della Fondazione Amesci che quest'anno vedono in campo appunto più di 2.000 giovani a fianco di 278 enti partner. Allora, di che cosa si tratta in questo ambito e qual è, possiamo fare anche diciamo un consultivo, che potremmo definire positivo, l'attenzione nei riguardi del servizio civile universale? Sicuramente come tante iniziative che oggi le politiche pubbliche rivolgono ai giovani, il servizio civile, dobbiamo dire, ha segnalato, se vogliamo, una controtendenza rispetto agli interessi dei giovani. Oggi è più difficile, lo sappiamo tutti, trovare anche candidature di giovani interessati al pubblico impiego, non è una cosa dove vanno sovente, se non nella pubblica istruzione. Il servizio civile, tra le tante opportunità che si offrono ai giovani, ha scontato immediatamente dopo il Covid una live flessione, ma questo lo abbiamo rilevato in ogni ambito della nostra vita. Ha invece segnalato una controtendenza proprio negli ultimi due anni, quindi immediatamente dopo il Covid, dove i giovani hanno ripreso a fare consistentemente domanda per servizio civile. Quindi questo vuol dire che se in un anno abbiamo bandito 52 mila posti, questo è l'ultimo bando che abbiamo fatto nel 2023, a fine anno uscirà per l'appunto il nuovo dicembre, abbiamo raccolto 114 mila domande, quindi oltre due domande per ogni posto di servizio civile, considerato che interveniamo in tutta Italia, quindi anche in centri più piccoli, non necessariamente così affollati di giovani, o piuttosto in aree del paese dove le opportunità potrebbero essere molte di più per i ragazzi, anche la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, e più rapida, è bene segnare questa consistente domanda di partecipazione dei giovani, vuol dire che questa è una politica pubblica che funziona, che piace, non è sicuramente perfetta come non lo è nessuna azione dell'uomo in terra, ma in realtà il servizio civile, possiamo dirlo con grande orgoglio, è una delle politiche più ammirate in Europa, perché riesce a coinvolgere i giovani, renderli parte attiva della loro comunità e soprattutto offrirgli un'esperienza di crescita e di formazione che i ragazzi, come sempre testimoniano alla fine del loro anno di servizio civile, gli ha cambiato la vita, gli ha aiutati moltissimo a crescere. Ecco, se questa è una sfida politica che lo Stato può lanciare alle nuove generazioni, trovo che il servizio civile sia sicuramente il terreno di confronto più idoneo sul quale misurarsi in questa stagione. Andando verso la conclusione di questo nostro approfondimento relativo al servizio civile universale, sono tanti gli ambiti che vengono toccati, abbiamo parlato di quello agricolo, che offre diverse possibilità, ma particolare attenzione è stata data anche alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, dei centri minori e delle culture locali, cui saranno destinati ben 270 volontari. Poi i settori dell'assistenza, della protezione civile, che ci fa particolarmente piacere poter sottolineare a pochi giorni dal nostro momento dedicato appunto alla protezione civile nazionale, qui a San Giovanni Notondo, dove abbiamo celebrato i 20 anni della dichiarazione di Padre Pio, patrono della protezione civile, ma poi ancora all'ambiente, l'agricoltura sociale e altri ambiti di intervento prevalenti. Dunque diverse possibilità in cui i giovani si possono misurare, davvero forse c'è anche troppo imbarazzo della scelta in questo senso, ognuno può scegliere l'ambito a cui si sente più, come dire, legato? Assolutamente sì, sicuramente per i giovani è la scelta del servizio civile, del tipo di servizio civile che vogliono fare, non è semplice come non lo è neanche quella della scuola superiore o dell'università. Sono ragazzi in formazione, non hanno ancora un orizzonte definito, ma il servizio civile serve esattamente a questo, è un po' quello che una volta si utilizzava come anno sabbatico, quindi è quell'anno che consente ai giovani di dedicarsi un po' a fare ciò che vogliono. Ecco perché i settori sono variegati, perché ogni ragazzo ha la sua sensibilità, la sua curiosità, quindi c'è chi fa una scelta di servizio civile in linea con i propri studi e magari con l'idea che lui ha di lavoro che vorrà affrontare domani. Ci sono persone e giovani che vengono a scegliere le esperienze di servizio civile per dedicarsi per un anno a fare qualcosa che gli piace. Ricordiamo, ha parlato prima della protezione civile, che in occasione dei terremoti che hanno colpito Marchi, Abruzzo, Umbria, abbiamo avuto ragazzi che si sono candidati a progetti di servizio civile in protezione civile proprio in quei territori per andare a dare una mano alle popolazioni bisognose in quel momento. Quindi come può vedere il servizio civile non è sempre soltanto la scelta di un percorso formativo. Sbaglieremo tutti se dicessimo che il servizio civile i giovani lo scelgono per il rimborso economico che hanno a fine mese è sicuramente un incentivo come giusto che lo Stato offra a ragazzi che distolgono un anno della loro vita per dedicarsi a attività di interesse generale. Ma i ragazzi scelgono di prendersi un anno per loro e di fare ciò che gli piace fare. Ecco perché il servizio civile ha un'offerta così variegata e la sperimentazione più intensa che adesso faremo con l'agricoltura, come quella sull'ambientale e sul digitale che abbiamo già avuto, ritengo che siano delle novità sicuramente interessanti che piuttosto che renderle straordinarie dovremmo sistemarle all'interno del servizio civile in maniera più stabile quindi dargli anche risorse più sostanziose, più stabili, cosa di cui oggi non dispone il servizio civile perché queste esperienze possono essere sempre presentate ai giovani in maniera così ampia e fare del servizio civile un riferimento di formazione per i nostri ragazzi come lo è stato per decenni anche l'Erasmus per quelli che invece hanno scelto di fare questo tipo di esperienze all'estero. Ed è l'auspicio al quale, come dire, ci uniamo anche noi. Intanto avremo sicuramente altre possibilità di approfondimento in futuro. Intanto ringrazio il Presidente Enrico Maria Borrelli per questa ulteriore possibilità che ci ha dato di aprire una finestra sul mondo del servizio civile universale. Buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi e buon lavoro.